Benvenuti ragazzi, allora, questo che state per vedere sarà il gameplay registrato ieri, day one, di Watch Dogs Legion online, quindi il primo giorno in cui hanno effettivamente rilasciato l'update, dopo che è stato rimanato tre volte se non sbaglio, due o tre volte. Ero in compagnia di Burghi, che per chi non lo conosce è un ragazzo che streama con me ogni tanto, che gioca con me e fa parte delle community del mio Discord, ovviamente trovate il link del Discord in descrizione. Abbiamo giocato Watch Dogs Legion su PS5, l'unica cosa che per comodità ho registrato utilizzando la funzione di rack della PS5, quindi la qualità video è buona, purtroppo la qualità audio non tantissimo perché ho usato le cuffie, le cuffie della PlayStation e quindi non ho usato il mio solito microfono con cui registro stream o comunque l'audio della fotocamera. Quindi abbiate pazienza per l'audio, purtroppo anche Burghi non si sentirà, lui giocherà con me, ma non si sentirà per il semplice fatto che lui si è dimenticato di attivare la funzione per la privacy, quindi anche se io ho detto di registrare l'audio del party, lui avendo messo di no, la sua voce non veniva registrata, quindi abbiate pazienza. Spero che vi piaccia questo video, molto ironico, niente di complesso perché è stato un po' un flop in tutti i sensi. Mi raccomando lasciate un commentino per dirmi se vi può piacere un altro video su Watch Dogs Online o su qualche altro gioco. Vi lascio il video, buona visione. Ok, registrerò adesso. Il tuo noiosissimo dispositivo optico è ufficialmente sbloccato. Ciò significa che il tuo assistente IA Bugli è stato aggiornato alla versione più intelligente, più utile, più eticamente discutibile. Eccomi qui e tu sei una potenziale recluta del DETSEC, un tenero cerbiato che muovi sui primi passi in quel campo minato che è Londra. Farò del mio meglio affinché non ci lasci le penne, ok? Il DETSEC è nato come collettivo hacker ma si è evoluto in un movimento di resistenza high tech al servizio della società. Ecco contro cosa combattiamo oggi. Il clan Kelly, un'organizzazione criminale che sul dark web vende di tutto, dalle pillole agli esseri umani. I criptofascisti del Sears che sfruttano l'infrastruttura di sorveglianza di Londra per tenerci soggiogati. E infine i fascisti conclamati di Albion, che usano armi e stivali per il medesimo scopo. Ti interessa ancora partecipare? Benissimo. Veniamo al punto. Per rovesciare la struttura di potere corrotto della città, il DETSEC è cresciuto, ma più è cresciuto più è diventato parte di quella struttura di potere. Per fartela breve abbiamo dovuto trovare un modo di rispondere del nostro operato. Ancora più in breve, chi controlla il DETSEC? Per questo motivo abbiamo decentralizzato il DETSEC in piccole cellule indipendenti. I nostri contatti identificano le minacce nelle loro comunità e le cellule indipendenti risolvono il problema come preferiscono. Di solito facendo uso di pistole stordenti e hacking. State a mettere insieme una di queste cellule da zero, ma prima capiamo se sei in grado di combattere contro orde di mercenari super addestrati e droni armati di missili. Detto francamente abbiamo scartato un sacco di dilettanti pieni di buone intenzioni. È tutto chiaro? Ottimo. Registrazione attivista confermata. Contatto attivo. Non mi ricordo sempre come si gioca in questo gioco. No, non ho un aiuto, non la voglio. Non voglio un aiuto per in squadra. Tutto è staccato dalla storia. Anche gli attivisti che erano in squadra. Ho anche giro di troppo e si è lasciato scappare qualche informazione. Ma che cazzo è? Bugly non ti ha parlato di me? Ah, che delusione. Mi chiamo Connie, ma alcuni di voi mi chiamano la proprietaria. Gestisco il pub sopra il rifugio vicino al Parlamento. Ah, sì, no. Cioè, bello. Piacere di conoscerti, Connie. E scusa, è che... Non fa niente, è tutto a posto. Vieni più tardi e ci presenteremo come si deve. Ma adesso è il momento della tua prima missione. Bugly ti farà avere ogni dettaglio. Boh, comunque è un po' rosico che non... Cioè, non hai lo stesso PG... Cioè, gli stessi PG che hai nella storia. Con gli stessi punti, le stesse abilità. Rosico il fatto che non si possa fare la storia in colp. Rosico tantissimo. Eccolo, procedi con l'accaraggio. Ah, così. Questo è il chilling. Trasferimento completo. Cioè, proprio il chilling. Ma... Cioè, serio? Esaminerò questi dati per te. Ben fatto, ti farò consegnare un premio. Che... Ma dai, ma non farmi ridere, ma... Ehi, sono andato... Oh, sì. Oh, sonne. Contromano. Ho schiantato sette taxi. Sì, che poi non lo tremo, ok. Conny. Ci sono stato mille volte nel tuo pub. Non avrei mai pensato una cosa del genere. Certo, solitamente ero ubriaco fradicio. Beh, è quello il punto. Te la sei cavata bene con l'incarico. Davvero? Allora, volevi saperne di più sull'aumento dell'influenza? Continua. Vedi, ci sono molte cellule del DedSec, oltre alla tua. Diciamo che l'influenza è il metodo che usiamo per tenere traccia del tuo contributo alla nostra rete. Puoi usarla per selezionare una nuova potenziale recluta o per dei potenziamenti, come un equipaggiamento migliore. In pratica, più dai, più ricevi in cambio. Grazie. Non c'è di che. Comunque, per ora è tutto. Torna là fuori e fai qualche buona azione. Ci sentiamo presto. Operazione tattica. In carico. Evento cittadino. Cacchio è? Oh, guarda che gioco ho buggato! Guarda che gioco ho buggato! Guarda che gioco ho buggato! Fra! Cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Fra, domani vedi che video che c'è c'è fuori! No, no, ma... Meno male che... Meno male che dovrebbe uscire a dicembre l'update. Cioè, meno male che hanno deciso di aspettare per sistemare un po' di cose. Penso se non lo facevano! Cosa sto guardando? Cioè, questa cosa non è fisicamente possibile in nessun modo! Ma, 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 ma... Cosa? No, no, ho scatenato qualcosa che non posso controllare! Ma, cosa? Fra! Fra, cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? No, no! Dai, ma, questo gioco non può essere così, dai! Cioè, ma, ti devi impegnare per fare dei bug così, perché sti cose non è che spuntano dal nulla! Piango! Ah, ma c'è un... Un pizzo in mezzo! L'ho sbagliato? Eh... Sono scollegate, sì, ma di tutto, anche dei tuoi, a vero, l'unica cosa che hai in comune sono tipo i soldi, mi sembra. No, no! Sanco! Vai, sono sopra da quattro ore! Togli dalla radio che mi danno il copyright! Fra! Ho messo in una persona! Ho messo in una persona! He- Ho messo in una persona! I- Lo jagio! Ho messo in una persona! Ho messo in una stata di bambino, i soldi. Ciao! Ho messo in una persona! Non posso capirlo per 색깔이ني che hai con ilускatico diитud. mappa sofia c'è già sto gioco che si autodistrugge abbastanza da sola che cacchio fai dai che facciamo crashare i server che quando i server piccolini non tengono manco 5 persone tu via ho già visto prima ha quittato uno e laggato tutto no smetti di acchierare qualsiasi cosa che ti passi a fianco perchè mi rendi la vita difficile porca lo schivo porca bene questo sorprende persino me questo drone è un prototipo di albion denominato sciame di droni ce ne sono molti altri e albion ha perso il controllo di tutti questo è un lavoro per il deadsec sparali ai dronettini sono delle mezze seghe fra c'è pure l'automira più di così al droni qualsiasi drone che vedi tu sparali quello ciccione quella cosa scritta davanti ti posso arrestare sbagliato ma che cacchio è che mi sparo dietro fra ma i tipi a terra si stuccano ancora ancora abbastanza ancora ancora se volevi giocare a gta online è un po' un problema mi ha arrestato io sono così morto com'è che io continuo a rimanere sempre al filo della morte e tu muori ok ora mi sto dissanguando vieni a rianimarmi chissà perché sono morto io cacchio mi è ripato l'attivista devo cambiare attivista ce la possiamo fare ce la possiamo fare gianni ce la possiamo fare non sei di nuovo cambiarti i vestiti io ci spreco il cranio porco ma tu mi fai perdere tempo a parte il fatto che non ha senso sta macchina quando si ferma va ancora avanti ti investo di nuovo ma cosa cosa no non dimmi che il mio joystick c'è il drifting perché uccido qualcuno dovreste essere teoricamente il primo invitato in qualche modo ok bravo vediamo se l'altro che con noi è furbo e accetta anche lui braaa allora c'è qualcosa c'è un problema di fondo eh c'è decisamente un problema di fondo ma ci sono altri due giocatori aspetta 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 ci sono due giocatori con noi potrebbe cambiare la situazione cambia attivista io non ho più attivisti ho sbaglio non è vero mi ha risponato l'attivista vai 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 easy subito fast fast web ok 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 bella 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 come arriviamo al piano di sopra borghe usando le scalette easy io sono al piano di sopra borghe non dire porca allora accendiamo ai comandi del drone easy easy ci piacciono le sfide da qualche parte ci sarà un origine dobbiamo allineare tutto per fare un hackeraggio bello pulito pulito ok io sono arrivato all'origine di tutto centrale addio droni per catturare il sospetto ok ora sta degenerando tutto ecco un riparo rispara ok ora abbiamo i comandi del drone perfetto quindi come chiamiamo questo drone da laggiù proprio un bel punticino lontano lontano oh no oh no 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 burgi sta degenerando tutto dai se riesce io riesco a restare come non detto no no ero qua c'avevo lo smoke dai porco schifo quanti cacchi di troni ci sono eh vabbè ancora qualcosa oh ce l'ho fatta ce l'ho fatta burgi ce l'ho fatta e potremo generare un sovraccarico e rivelare i punti deboli bello burgi ciao ciao dai non ci posso credere ma forza ostica stanno distruggendo ma quanto cacchio significi ste missioni ho? che devi essere? 10.742 dai mamma mia e niente e niente ma non è possibile non è possibile oh questo qua è quasi molto interessante ma va bene ci vuole bene comunque cacchio da testo e dai e e turna ooo gg 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 ok Easy, easy, easy. Oh, qualcuno ha shoppato già nemmeno.